Prosegue la preparazione della Lucchese in vista della delicata trasferta di domenica prossima, ore 17.30, sul campo del Novara. Al Silvio Piola, Monaco dovrà fare a meno degli squalificati Benassi, Adamoli, Bartolomei e Papini, quest'ultimo anche infortunato. La partitella in famiglia del giovedì pomeriggio all'Acquedotto non ha sciolto ancora del tutto i dubbi sull'undici che calerà sul campo degli azzurri piemontesi, reduci dalla sconfitta di Vercelli alla prima di campionato e anche dall'eliminazione in Coppa Italia a Cittadella. Giovedì pomeriggio, sotto un cielo plumbeo e carico di pioggia, la Lucchese si è allenata all'Acquedotto, disputando la consueta partitella in famiglia. Monaco deve valutare se schierare la squadra con il 4-2-3-1 oppure con un più accorto 4-3-3. Detto delle assenze, chiaro che ci sono alcuni ballottaggi. In difesa tra Solcia e Cellammare, col probabile debutto dell'ultimo arrivato De Vito. A centrocampo, Lionetti e Meucci si giocheranno una maglia solo se sarà pacchetto mediano a tre. In attacco, Convitto troverà spazio solo con il 4-2-3-1. Gli altri ruoli paiono invece definiti. Gara assai difficile, vuoi per l'avvio negativo del Novara, che per l'effettivo valore della squadra di mister Simone Banchieri.